Siamo con il Sindaco di Cento, Fabrizio Toselli, questa mattina un incontro con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in cui si sono parlate delle problematiche legate appunto a temi idraulici del territorio di Cento, Cento che in passato ha avuto alcuni problemi e che sta cercando di risolverli. Ecco allora Sindaco, in sintesi che cosa è emerso e che risposte sta cercando di dare Cento ai cittadini che sono preoccupati di questa situazione? Ma le risposte sono risposte che vadano nella direzione di mettere in sicurezza la città, nel 2005-2008 c'è stato un importante allagamento, è stato fatto un progetto a tre stralci, il primo stralcio già realizzato, tre anni fa quando mi sono insediato c'era il tema di trovare i finanziamenti per il secondo stralcio, oggi siamo contenti di poter dire che questi 4 milioni e 8 sono arrivati e quindi ci consentiranno di procedere con i lavori. Mi chiamo Caroletta Rosario e sono il fondatore del comitato allagati centesi quando a Cento ci fu un grosso allagamento nel 2005 e sembrava che non si muovesse nulla allora è stato necessario creare questo comitato che sollecitava il comune, la provincia c'è anche la provincia a intervenire e cercare di risolvere il problema annoso dell'allagamento. Questo comitato è andato avanti e per fortuna c'è stata le istituzioni che hanno risposto alle necessità del comitato e quindi è iniziato una serie di lavori che hanno portato attualmente alla situazione che abbiamo visto adesso, cioè praticamente c'è sempre il rischio all'allagamento però i rischi stanno diminuendo. Questa mattina abbiamo sentito che il comitato ripone su di voi grandi aspettative, insomma avete sicuramente già migliorato le condizioni di sicurezza di Cento ma c'è ancora da fare. Sì, dicevo che questo pezzo è un pezzo importante di un progetto complessivo che prevede un impegno di circa 15 milioni di euro, è stato realizzato per un primo terzo, oggi ha avuto i finanziamenti da parte del Ministero tramite la Regione di un altro stralcio, praticamente un altro terzo parliamo di altri 4 milioni e 800 mila euro, stiamo ovviamente portando a compimento l'approfondimento di idee progettuali, anzi adesso definire idee progettuali è un po' come dire non siamo più al passo, nel senso che oggi stiamo ragionando sulle dimensioni delle opere su una collocazione più precisa, anche qui queste opere che noi presenteremo prevedono appunto di difendere la città da flussi di volumi d'acqua importanti e diversi, non faremo una cosa analoga, non faremo un'altra cassa di laminazione tipo Ponte Alto con l'affitto di curazione, ma cercheremo di costruire delle servitudini a lagamento in modo che l'impatto sul territorio sia ancora più modesto, siano poco visibili e anche perché le zone dove noi le collocheremo hanno una valenza diversa rispetto a questo, quindi abbiamo dovuto fare degli adattamenti giusti.